Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli Buon pomeriggio e eccoci su sannicandro.tv Partiamo subito con le notizie di questa settimana Controlli a tappeto dei carabinieri Quattro arresti contestati reati di traffico di sostanze stupefacenti e spaccio Guardiamo il servizio Nel corso degli ultimi giorni a San Nicandro Garganico Si sono susseguiti una serie di servizi dei carabinieri Finalizzati al contrasto dei reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti Con numerose perquisizioni e controlli Che hanno consentito di sottrarre dal mercato dello spaccio Marijuana ed Eroina In particolare i militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio Leonardo Campanozzi classe 86 L'uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti a girarsi per le vie del paese A bordo del proprio veicolo Cambiando repentinamente direzione di marcia alla vista della pattuglia I carabinieri insospettiti da tali manovre Lo hanno seguito e poi sottoposto a perquisizione personale e domiciliare Le operazioni hanno consentito di rinvenire all'interno del garage del fermato 14 grammi di eroina già suddivise in 28 dosi occultate all'interno di una cassetta di attrezzi Il giovane è finito ai domiciliari Sottoposti a controllo anche Nazario Carella classe 97 Leonardo Adriano di Tullio classe 93 Entrambi originari di San Nicandro I due giovani erano stati notati a girarsi per fare sospetto Per le vie del paese ed in particolare alla vista dei militari Hanno tentato rapidamente di allontanarsi Raggiunti dai carabinieri i due sono stati perquisiti E trovati in possesso di circa 60 grammi di marijuana Già suddivise in dosi e pronta per essere venduta Successivamente le perquisizioni sono state estese Alle rispettive abitazioni dei due giovani E presso quella di Carella i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 100 grammi di sostanza Nonché un bilangino di precisione e tutto il materiale occorrente Per il confezionamento in dosi dello stupefacente Domiciliari per entrambi Infine i militari del comando stazione di San Nicandro Hanno effettuato una perquisizione domiciliare Presso l'abitazione del sorvegliato speciale Nazario Marinacci classe 73 Nel garage dell'uomo i militari hanno recuperato Circa 3 chili di marijuana già essiccata E pronta per essere venduta Dalle analisi di laboratorio è emerso che dallo stupefacente Potevano essere ricavate oltre 4.200 dosi Anche per lui i domiciliari Disaggi scuole Bocciata proposta delle opposizioni PD, FI, UDC e nuovo CDU No a doppi turni e mobili scolastici resti notali Ancora una volta dobbiamo prendere atto di trovarci davanti ad un sindaco ed una maggioranza sordi E non curanti delle esigenze dei cittadini Così i gruppi politici di minoranza a commento dell'ultimo consiglio comunale di San Nicandro Garganico Tenutosi lo scorso 28 settembre su richiesta degli stessi Riguardando la temporanea riorganizzazione dei plessi scolastici Dopo la chiusura per lavori del complesso in zona Boschetto Come immaginavamo è ormai chiaro che il sindaco con qualche suo fido Sta tendendo in tutti i modi di trovare tardive soluzioni Per salvare la faccia dopo aver creato notevoli problemi a famiglie e personale scolastico Con spostamenti e doppi turni Scrivono le opposizioni Mentre sembra non esistere affatto un assessore alla pubblica istruzione La cui unica preoccupazione è sottrarre un edificio scolastico alla collettività Per indicarvi la tenenza della Guardia di Finanza Abbiamo quindi presentato una nostra proposta per mettere fine ai disagi Chiedendo che tutti gli immobili riconosciuti con destinazione scolastica Siano utilizzati in attesa del completamento dei lavori in via dei sanniti Con un solo voto in più la nostra proposta è stata bocciata dalla maggioranza Il sindaco e i suoi hanno già garantito che entro due settimane Sarà liberata un'ala del complesso in zona Boschetto Per eliminare quantomeno il turno pomeridiano Ma noi siamo certi che i danni subiti non verranno dimenticati dalla collettività Ci auguriamo vivamente, concludono le opposizioni Che una volta tanto il sindaco mandenga la parola Ma non potremmo mai tacere sul fatto che Anche questa vicenda è stata gestita con la solita superficialità E il pressappochissimo tipici di questa maggioranza non eletta dal popolo Siamo pronti in ogni momento infine a discutere di eventuali utilizzi dei beni comunali Ma giù le mani dalla scuola Che è un bene primario di ogni comunità Quella sannicandrese in particolare Dove occorre investire sempre più in istruzione e formazione Con un occhio lungimirante e possibilmente ambizioso per il futuro e per le nuove generazioni Maxi, sequestro di marijuana, arrestati tre sannicandresi Soppresi in fra grande mentre preparavano dosi Oltre 800 piante sequestrate Guardiamo il servizio Conferenza stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri Per illustrare l'operazione di sequestro di incendi quantitativi di marijuana Avvenuto lo scorso 28 settembre Quando in città furono visti due autocarri Colmi di piante di cannabis escortati da volanti dell'arma Si tratta di un importante servizio di repressione dei reati In materia di traffico di sostanze stupefacenti I Carabinieri di San Severo e quelli della stazione locale, infatti Hanno condotto una vasta e prolungata attività di ricerca sul promontorio garganico Battendo terrene agricole ed aree boschive particolarmente impervie Riuscendo a scovare due piantagioni illegali di cannabis sativa Composte complessivamente da oltre 800 arbusti Tutti di altezza superiore ai 3 metri La piantagione occultata tra la boscaglia è particolarmente difficile da individuare Anche con osservazioni dall'alto Era fornita di un complesso impianto di irrigazione automatico Che garantiva la fornitura di acqua interamente recintata Con una rete metallica Per evitare che i bovini presenti nell'aria potessero danneggiarla Nel corso dell'operazione i militari hanno individuato anche una masseria di smessa A breve distanza dalla coltivazione Al cui interno hanno sorpreso 3 uomini intenti a predisporre il materiale necessario Alla raccolta e all'essiccazione delle piante Gli individui, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga a piedi Con l'intento di far perdere le proprie tracce nella boscaglia Ma sono stati raggiunti e bloccati E' stato quindi accertato che lo stabile era stato organizzato come un vero e proprio laboratorio Per la preparazione dello stupefacente Con graticci, ventilatori e stufette Per velocizzare l'essiccazione delle foglie Prodotti fertilizzanti e altro materiale per la coltivazione A seguito della campionatura e delle analisi di laboratorio E' emerso che dalla sostanza sequestrata sarebbe stato possibile ricavare circa 12,4 kg di principio attivo Per una media complessiva di 495.276 dosi Secondo le tabelle ministeriali I tre fermati identificati in Nazario Torella, classe 77 Domenico Vocale, classe 68 E Giovanni Vocino, classe 73 Sono stati arrestati e condotti nel carcere di Foggia Dovranno rispondere di concorso nella coltivazione e produzione di sostanza stupefacente A seguito del giudizio di Convalida Vocino e Vocale sono rimasti in carcere Mentre Torella è stato scarcerato Emigrazione, San Nicandro, ventunesimo comune per Aire Un triste primato insieme a San Marco e Lamis Ma il tasso di emigrazione è ben più alto Guardiamo il servizio In un editoriale di quasi un anno fa Avevamo analizzato le ultime statistiche demografiche, economiche Ed alcuni dati riguardanti la nostra cittadina Scoprendo tristi primati ed altre percentuali negative Che riguardano soprattutto La densità di popolazione e il reddito pro capite Tra i più bassi dell'intera provincia di Foggia Chiudevamo allora l'editoriale interrogandoci su cosa fare Per invertire il trend negativo di città più vecchie della provincia di Foggia Chiedendoci cosa sarà della nostra San Nicandro nel prossimo decennio Quando la pensione di nonno o nonna Ammortizzatore sociale per eccellenze nella nostra città Verrà meno Le maggiori testate giornalistiche nazionali Hanno pubblicato i cosiddetti grafici della fuga Degli italiani verso l'estero Ancora una volta con la pubblicazione di questi nuovi grafici Siamo venuti a conoscenza di dati non proprio positivi Riguardanti la nostra cittadina Infatti, consultando grafici e dati di incidenza Dei cittadini italiani residenti all'estero Dei comuni tra i 10.000 e i 100.000 abitanti Scopriamo che San Nicandro Garganico risulta ancora una volta protagonista Per quanto riguarda l'elevato numero di cittadini residenti all'estero La nostra cittadina risulta tra i primi 50 comuni in graduatoria per percentuali Di flussi migratori verso l'estero Le statistiche ci dicono che San Nicandro Garganico conta ben 4.380 cittadini residenti all'estero E iscritti all'Aire Con un'incidenza del 28,1% La statistica ci informa anche sul numero di residenti Al primo gennaio 2016 Che si attesta sui 15.566 abitanti Ma che cos'è l'Aire? Perché bisogna iscriversi? L'Aire è un'anagrafe creata per monitorare i flussi e il numero di cittadini italiani Che si trasferiscono all'estero ogni anno Bisognerebbe iscriversi se si risiede all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi Va detto però che non tutti i sannicandresi E non solo loro Che si trasferiscono all'estero per un periodo più o meno lungo di tempo Decidono di trasferire la propria residenza all'estero Non tutti sanno dell'Aire e come funziona questa speciale anagrafe Senza citare chi sa dell'esistenza dell'Aire E decide di non iscriversi Poiché c'è uno svantaggio Trasferendo la propria residenza all'estero e iscrivendosi all'Aire Il cittadino italiano perde il diritto di assistenza sanitaria qui in Italia E ciò avviene automaticamente Probabilmente il dato effettivo potrebbe essere anche più di un 20% superiore Rispetto alle statistiche Con oltre 5.000 sannicandresi all'estero Tra i comuni pugliesi, tra i 10.000 e i 100.000 abitanti Con il maggior numero di italiani registrati all'estero Troviamo anche Taurisano in provincia di Lecce E la vicina San Marco e Lamis Quest'ultima con dati e percentuali superiori rispetto a quelle di San Nicandro Garganico Se si considera il minor numero di abitanti E una maggiore percentuale di incidenza Guidano la classifica invece i comuni della Sicilia Festa dell'accoglienza all'Istituto Derogatis Fioritto Parte l'anno scolastico a Portone Perrone Un'interessante manifestazione si terrà martedì 11 ottobre 2016 Alle ore 17 presso l'aula magna dell'Istituto Derogatis Fioritto Con la festa dell'accoglienza per le classi prime Un'occasione importante per la scuola nel presentare la propria offerta formativa ai genitori E agli alunni delle classi prime Per favorire l'inserimento della nuova realtà scolastica E coinvolgerli in un progetto educativo e formativo di grande rilevanza Il dirigente scolastico Francesco Donataccio Invita gli alunni e le rispettive famiglie Nonché tutte le persone sensibili ai temi dell'istruzione e dell'educazione A partecipare all'evento Al via la quarta edizione di Aspettando il Natale Il comitato feste patronali chiede la disponibilità dei cittadini ed esercenti In un incontro La CFP è lieta di invitare tutti gli esercenti alla quarta edizione di Aspettando il Natale In tale occasione e dopo il successo della scorsa edizione Si vuole proporre anche quest'anno i mercatini di Natale Chiediamo perciò ancora una volta la vostra disponibilità per il giorno 8 dicembre 2016 Per discutere e stabilire i dettagli dell'evento Siamo disponibili ad un incontro in data da stabilirsi Con quanti di voi sono interessati Ringraziamo già per l'attenzione e porgiamo distinti saluti Per oggi era l'ultima notizia Vi do appuntamento lunedì prossimo come sempre alle 15.30 su sannicandro.tv E dopo di me a seguire il TG Sportivo Buon pomeriggio a tutti e grazie per averci seguito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti